La squadra sta bene, la squadra ha lavorato tanto, sta lavorando tanto, ci siamo fermati un po' ad analizzare un po' quelle che erano state le due fasi della prima parte di stagione, perché c'è stata una prima fase ad alto ritmo e una seconda un po' più rallentata e abbiamo cercato un po' di capire il perché, di analizzare sia il periodo molto positivo sia il periodo un po' più negativo. Abbiamo lavorato parecchio e vogliamo ripresentarci alla grande per questo nuovo inizio, dobbiamo azzerare quello che abbiamo fatto fino adesso e ripartire scrivendo un'altra pagina. Questa squadra è pronta alla bagarre playoff perché di questo si tratterà? Sì, sicuramente i gironi di ritorno sono sempre, anche se ancora non si parla di ritorno, però le seconde parti di campionato sono campionati diversi, sono più difficili, ci sono tutte le squadre che hanno degli obiettivi da rincorrere e quindi le partite sì, sicuramente saranno più toste. Analizzando un po' quelle che erano state il primo blocco di partite e il secondo, una notevole differenza è stata quella, c'è stata che eravamo una squadra molto più aggressiva, che riusciva a rubare palla, a rubare tempo agli avversari e quindi quello ci ha un po' fatto fare la differenza perché poi riuscivamo anche ad avere un gioco più semplice, a rubare palla più avanti e quindi avere meno spazio da attaccare per riuscire ad arrivare in porta, ci dava più pericolosità e quindi quello è un po' stato il nostro punto di forza fino alle ultime partite, diciamo. Quindi abbiamo visto che quello dobbiamo ritrovarlo perché ci fa fare la differenza, sicuramente. Si parte subito con un avversario importante che è stato costruito per stare in alto, per lottare nei primi posti comunque e quindi è una partita giusta che ci misura subito il livello attuale e quindi noi vogliamo rispondere al presente, vogliamo, come dicevamo prima, ritrovare quell'aggressività, ritrovare quello spirito che c'era nel primo blocco di prima parte di campionato. Quindi abbiamo lavorato molto e speriamo di farci trovare subito pronti. Grazie. Grazie.